La Pet Economy La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole In un mondo in continua evoluzione e di fronte a nuovi cambiamenti come la transizione energetica e l'innovazione tecnologica un'economia che si sta sviluppando velocemente è quella legata agli animali domestici la cosiddetta Pet Economy Quest'economia si sta sempre più sviluppando in quanto sono cresciute sempre più le attenzioni e i servizi per i nostri amici animali Ormai un animale domestico è considerato un componente della famiglia in tutto e per tutto In questa categoria rientrano cani, gatti, conigli, rettili, pesci e anche uccelli L'aumento della presenza di un animale domestico ha portato le aziende del settore a sviluppare servizi e prodotti equiparabili a quelli degli esseri umani Cibo specifico e di vari gusti, prodotti farmaceutici, prodotti per le cure mediche Toelettatura, pensioni per i periodi di vacanza se non li portiamo con noi Abbigliamento, psicologi, fisioterapisti e addestratori Oltre a servizi particolari come il Taxi Dog che è specifico per chi non può portare gli animali per andare dal veterinario fare la toilettatura in negozio oppure una passeggiata Il Wedding Dog Seeker Cioè la persona che dovrà gestire il rapporto con il cane durante la cerimonia del matrimonio Sì, avete capito bene Quindi servizi che riguardano anche la parte relativa al benessere psicofisico dell'animale Inoltre è stato istituito una sorta di decalogo che ripiloga quelli che dovrebbero essere i comportamenti da adottare per i proprietari degli animali domestici Prendersi un impegno a lungo termine Analizzare attentamente le esigenze dell'animale in funzione dello spazio abitativo La massima attenzione alla provenienza cioè da dove viene acquistato l'animale Registrarlo come la nostra anagrafe La cura e la prevenzione Educarli alla socializzazione Rispettare gli altri e fare in modo che l'animale non recchi fastidio o danni alle altre persone Fargli fare il movimento e farli giocare in base al tipo di animale Fornirgli la corretta alimentazione Gestire le problematiche che potrebbero causare assicurandoli Tutto ciò vi fa capire lo sviluppo economico che c'è dietro a questi processi che si traduce in crescita per le relative aziende di prodotti e servizi Si parla di un giro d'affari che supera i 2 miliardi di euro con una spesa mensile per animale che varia dai 50 ai 300 euro Cifre ovviamente che possono aumentare in modo esponenziale utilizzando i servizi sopracitati Inoltre il lockdown ha scatenato un vero e proprio boom nella richiesta degli animali da compagnia La citazione di oggi è la seguente Wall Street Simbolo del peccato che viene debitamente stigmatizzato da tutti i peccatori in circolazione Che il Wall Street sia un covo di ladri è un credo ben radicato e sostituisce la speranza del paradiso per tutti i ladri e i disonesti falliti del paese Ambrose Beers dal Dizionario del Diavolo del 1911 Rendiamo la finanza amichevole Vi aspetto Grazie a tutti